quindi vabbè è stata una serie di metterla più in fondo e quindi vabbè è stata una serie di metterla e quindi vabbè è stata una serie di metterla e quindi vabbè è stata una serie di metterla e quindi vabbè è stata una serie di metterla e quindi vabbè è stata una serie di metterla Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 un po' secchino del Mario già arrivati i primi si? mamma mia 5.000 si ah buono, primo non è ancora arrivato il primo no dei 10 no dei 5 si 5 si praticamente guarda macchia stava arrivando da si riuscì a capitare non quando non so non si non 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 è un non non 10 e 4 no aspetta è avanti 3 4 minuti infatti io penso che questo è mai credo che i 10 sono passati dove andiamo a fare e ora devi stare fermi giornata perfetta anche tu si è scatto e si è troppo pieno si perché il cuore ciao Luca ciao sono l'ultimo 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 sono l'ultimo